Sulla palla il numero 8 Pirrone inizia adesso Acragas Mazzara prima di andata in eccellenza Girone A Adesso ci prova il Mazzara, attenzione con il numero 11 Etimane che punta la porta avversaria Pallone a destra Il cross invitante, attenzione Il Mazzara vicinissimo al vantaggio con l'attaccante Amodeo al secondo minuto di gioco Punizione Acragas, parte Licata Gambino di testa, traversa piena, poi Biondo non è finita Si salva il Mazzara, che traversa che ha colpito Gambino, è andato in cielo, ha preso l'ascensore Bulades subito il cross in aria Poi la conclusione del numero 4 Giacalone, la bella parata di Paterniti In aria anche Licata, vuole palla invece il numero 10, tre piedi, eccolo servito Ventesimo in corso, tre piedi punta un avversario Poi Biondo, cross sul secondo palo di testa E poi c'è il gol Rete dell'Acragas, ha segnato David Biancola 1-0 per l'Acragas, è un vantaggio meritato per la formazione bianco-azzurra Licata, bene con la testa Gambino, benissimo per Biondo Poi Gambino, come gioca bene l'Acragas Gambino, la botta, deviazione, palla alta di un niente Applausi a scena aperta per l'Acragas Chance per l'Acragas per il raddoppio Gambino, la conclusione, Maltese, la palla è l'inrete E sono due Segna il numero 11, Caronia Il suo primo gol con la maglia dell'Acragas Mazzara, KO Dopo appena 27 minuti di partita 2-0 per i bianco-azzurri E un raddoppio strameritato Perché in campo c'è solo una squadra, l'Acragas Ottavo angolo per l'Acragas Palla nel mucchio, Gambino con la testa Palla alta di un niente Pirrone, tre piedi, bene per Biondo Caronia, Gambino, l'Acragas è già in porta Attenzione al numero 10, la conclusione Altra Chance per tre piedi E il 3-0 è fallito Per pochi centimetri Un solo cambio durante l'intervallo È entrato il numero 14 del Mazzara Abbate Il neo acquisto E tra un po' vedremo chi ha lasciato il rettangolo di gioco Intanto attenzione al Mazzara con Greco in zona tiro Greco la conclusione Palla fuori di pochissimo Mazzara subito pericoloso Attenzione a questa punizione per il Mazzara Palla sul primo palo Attenzione Paterniti e poi c'è il gol del Mazzara Il Mazzara riapre la partita Segna la formazione ospite che ha iniziato benissimo questo tempo L'Acragas è praticamente rimasta negli spogliatoi Ha segnato il numero 11 Etmane Al sesto minuto della ripresa Acragas 2 Mazzara 1 Diciottesimo Per la ripresa Licata il cross per Gambino Di testa Gambino incrociare Palla alta di pochissimo Non riesce a buttarla dentro Gambino Davvero sfortunato Avanza il numero 3 del Mazzara Bulades Attenzione si accentra il numero 7 Passaggio per Amodeo La conclusione di Amodeo Mazzara vicino al pari Palla fuori di pochissimo E parte Danilo Greco La sua conclusione Paterniti C'è Attenzione Arriva un cartellino rosso Per Etmane Espulso l'attaccante del Mazzara Per una gomitata In pieno viso a Biondo Rosso diretto per Etmane E la punizione è da ripetere Dunque se ne va Etmane intanto Espulso per una gomitata La manata in pieno viso Al 27esimo della ripresa Parte l'ex Acragas Greco La conclusione sulla barriera Greco ancora Tiro fuori angolo C'è stata una deviazione Il Mazzara è ancora lì Angolo per il Mazzara Il primo della ripresa Il secondo della partita Palla nel mucchio Attenzione La conclusione La palla è lì Paterniti Salva l'Acragas Super parato di Paterniti Con tre avversari in agguato Pronti a far male Biancoazzurri Gambino Contro Maltese Fischia Spedale Parte Gambino La conclusione 3-1 Acragas Segna Anche Peppe Gambino Al 31esimo della ripresa L'Acragas Ha forse chiuso La contesa A sinistra Eccolo servito in profondità Gargiulo Arriva Biondo Se ne va con una magia Mamma mia Biondo Cosa ha fatto Biondo Gambino E poi palla fuori Acragas vicino Quattro a uno Applausi Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti